pronti pronti prestissimo sono le sono le orario 4 45 sveglia 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 pronti pronti via alba ancora buio fra fra non la riprendo ancora buio qualcosa si vede però la fra un freddo boi fra freddo forte buongiorno un bellissimo applauso quest'ora ci scaldiamo anche le mani noi siamo love sick duo benvenuti al concerto all'alba tra un po' arriva anche il sole e il caffè il caffè e i bomboloni hanno detto 1, 2, 1 2, 3, 1 3, 2, 1 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti